Giulio Sabbi, stasera un'Italia diversa che però alla fine purtroppo non ce l'ha fatta ad avere ragione di questi run. Sì, l'obiettivo di questa partita era comunque cambiare atteggiamento, provare a entrare in campo con un'altra mentalità e direi che ci siamo riusciti. Poi al di là del risultato che comunque non ci ha premiato, però mi è piaciuta questa sera la voglia di stare in campo e di provare ad allungare la partita in qualsiasi situazione. Stasera a un certo punto sembravate in grado di riaprirla, dopo il 2-0 avete vinto quel set, avete lottato, poi è mancato forse veramente un'inerzia, qualche piccolo dettaglio. Sì, nei set persi praticamente tante occasioni ci sono capitate, potevamo sfruttarle diversamente, è andata così e niente, ci dispiace per il risultato ma comunque siamo contenti almeno per l'atteggiamento che abbiamo dimostrato in campo e il nostro obiettivo era quello di farci perdonare per quella brutta figura di venerdì. Senti, proprio a proposito della prima gara, guardando la partita di stasera forse il rammarico è ancora più grande, no? Per come avete giocato proprio la prima. Sì, perché a differenza della partita di venerdì dove non siamo praticamente entrati in campo, non avevamo nulla da recriminare. Questa sera siamo entrati in modo diverso e ci dispiace comunque, come dicevo, per il risultato ma l'atteggiamento era quello giusto.